C'è la zoom? Pensa a quella che saliva a cento, che cosa? Tipo la cupola di buonelleschi. Ma era perché non ci siamo andati in quella che saliva assai. Perché era chiusa, per lavori. Vero? Eh sì. Guarda la rotonda. Questa è? Questa facciamo la mandiglia? Tu da Barcellona. Questa è da Barcellona. Guarda, guarda. Io pure, infatti guarda qua. Noi dobbiamo andare là oggi. Guarda il missile. Guarda la salita mia. Quale? Questa! Questa! Questa è tutta cosa noi. Dentro, fuori, dall'alto. L'alto, dall'alto. Potremmo farci la concerto con Alio. No, grazie no. Guarda questa è tutta la rabbola, mi sa. Impressione. Fa veramente così. Anche così. Che fa? Non ci farei la ritora di nonno. Un mòio. Mi buttano ancora di lui. basta che non è indietro